Sempre dobbiamo parlare qual è l'obiettivo, non solo in questo caso, per l'Europa League ogni stagione devi sapere più o meno qual è l'obiettivo, al di là dello che si dice fuori lo che noi diciamo dentro, che dobbiamo in caso dell'Europa League qualificarsi, passare il girone e questo significa iniziare bene la prima partita e essere sicuro che andiamo avanti e dopo guardare un'altra volta, io che ho un po' di esperienza nell'Europa League so anche la Champions è più o meno lo stesso, quando arriva al girone deve farlo bene, dopo può succedere qualcosa perché dipende molto dalla squadra che ti tocca nel sorteggio, dobbiamo farlo bene, dobbiamo andare avanti e dopo guardiamo ancora più.